Ciao amici di Socialintech, altro giro, altra corsa e altro prodotto di Satechi, altro hub, questa volta però è l'hub USB-C Pro Hub, ma ha una particolarità, ha il connettore per la Ethernet, ma andiamola a vedere più nel dettaglio. Eccoci amici con la confezione appena scartata, abbiamo soltanto il prodotto e nessun libretto illustrativo, quindi vado subito a prendere il dispositivo e vi mostro cosa c'è. Allora, costruzione in alluminio, come l'altro hub Pro della marca Satechi, il Pro Hub USB-C. Abbiamo anche in questo caso due attacchi USB-C, quindi dovrete annetterlo in questo modo al vostro MacBook. Sopra una parte in plastica aggiuntiva che va a mettere questo slot che si apre e chiude proprio per aggiungere l'Ethernet, il cavo Ethernet al vostro MacBook e decisamente usufruire della vostra rete cablata Ethernet. Qui abbiamo il Type-C, Type-C fino a 100 Watt di potenza, qua invece il 4K a 30 Hz e non 60 Hz come nell'altro invece hub, che nell'altro invece avevamo 87 Watt di potenza e due USB-A con il 3.0. Ma non è finito qui perché nella parte in fondo abbiamo questo piccolo slot, se riuscite a vederlo, per la micro USB, quindi non c'è la SD, però vi è la micro SD, quindi molto molto interessante come potete vedere. Vi mostro anche l'altro suo fratello, l'altro Pro Hub di Satechi che abbiamo già recensito, questo però senza l'attacco Ethernet dove vi è qualcosina di più, invece uno ha qualcosa in più, l'altro in meno, insomma si tolgono e aggiungono qualcosa. Questo 30 Hz, questo 60 Hz, ricarica 100 Watt, ricarica fino a 87 Watt, ma che dire, comunque due prodotti ottimi da parte di Satechi come sempre nei materiali e nella costruzione. Che dire ragazzi, mettete un mi piace se vi è piaciuta la recensione, sotto potete scrivere i vari commenti, vi ricordo di cliccare sulla campanellina affinché possiate ricevere le notifiche sul nostro canale e che dire ragazzi, ciao!